Ciao a tutti, ben trovati di nuovo a TCG Television e di nuovo con Adrenalin XL Serie A 2013-2014 in questo periodo purtroppo è un po' droga stavolta siamo in compagnia di Claudio ciao che ci aiuterà a sbustare queste bustine iniziamo subito non sa perdere troppo tempo queste in se salva, non stanno in se salva lunghi bellingheri oh conco oh ce l'ha fuori è una girata è un scudetto non ce l'ha di niente girardino dopo vediamo chi sarà eccolo alberto cerra in new generation è rimasto il logo perchè non c'è scritto ruolo dietro per forza no juventus campione in carica abbiamo scoperto un'altra cartaccia che si sono inventati quest'anno vabbè contento? no vorrei un logo? un magnifico logo della Lazio no quello no te lo lascio a te volentieri vabbè poi c'è quello del Napoli lo dico io oh c'è il fogliettino che ancora non avevo trovato vergogna fogliettino gira gira si savic schifo pamic pamic che giocatore 83 catania no no zuniga vabbè colore su quelli 87 ma male filippo filippo maxes che c'è tra l'altro 83 è il quattro abbiamo tolato tutta la difesa per mila qua dietro c'è un portiere se si abbiati oh è Gianluigi è Gigi non è già ciò ma se è pacchetto no anche il capitano brutto sto pacchetto mi è piaciuto proprio c'è tutto dipende io per esempio no pure questa c'hai? no no almeno abbiamo rivelato com'è fatta ciao a tutti e grazie grazie a tutti grazie a tutti